Il tempo per salvare il cupa di Agrigento potrebbe non essere scaduto ed ieri il comunicato stampa della Presidente del Consorzio Maria Immordino in cui si informa che non potranno partire nuovi anni. Ma lo spiraglio burocratico temporale a cui appellarsi c'è. Il CDA e di conseguenza la sua Presidente sono decaduti il marzo scorso e quindi la comunicazione dell'Emmordino all'Università di Palermo in cui si dice che il CDA non ha raggiunto il numero legale per approvare il piano dell'offerta formativa potrebbe non essere valida. Questo è il cavillo burocratico. Parlando di quello temporale, è vero che l'Assemblea dei Socii doveva comunicare a Palermo il piano dell'offerta formativa per l'anno 2016-2017 entro lo scorso 4 maggio ma è anche vero che Palermo dovrà dare comunicazione al MIUR solo il prossimo 15 maggio ed è previsto una nuova Assemblea dei Socii il 13 maggio, proprio due giorni prima. Unico problema è che come punti all'ordine del giorno c'è solo il rinnovo delle cariche, ovvero le modifiche statutarie. Una soluzione percorribile dunque potrebbe essere quella di inserire nuovamente all'ordine del giorno l'approvazione del piano di offerta formativa. Intanto gli studenti agrigentini stanno anche pensando di rivolgersi ad un legale per far valere i loro diritti ed assicurare nuova vita al polo agrigentino. I lavoratori del CUPA stanno invece programmando una conferenza stampa insieme ai sindacati. Insomma, seppur la situazione è critica, sono in molti a sperare che il tutto possa risolversi. Resta intanto viva anche la battaglia politica insieme al CUPA. Dall'ufficio amministrativo stamani ci comunica che non abbiamo nulla da aggiungere. Adesso la parola aspetta chi ha realmente il potere per salvare l'università.